Lacrime e sorrisi, rabbia e tenerezza ai funerali di Bernard Verlac, più famoso col suo nome di battaglia, Tignou, una delle vittime della strage di Charlie Hebdo. Molte le facce note, a cominciare da quella di Luz, il disegnatore sulle cui spalle ricade il peso della continuità editoriale del giornale. Sono state uccise persone profondamente gentili, capaci di parlare tanto agli adulti che ai ragazzi. Noi faremo esattamente lo stesso. Un ultimo saluto, coerente con lo spirito dei disegnatori, e che non ha mancato di registrare momenti di forte commozione, come è accaduto quando ha preso la parola la moglie di Tignou. Riconquistiamo il diritto di fare quello che facevamo prima, di non restare in silenzio, di ricordare che erano tutti pacifici, non violenti e repubblicani. Continuiamo a difendere la laicità per i nostri figli nelle scuole, credo sia fondamentale. Al cimitero di Perlascese, i funerali di George Voninski, di lui parla la figlia. Restiamo uniti, facciamo in modo che non sia stata una cosa destinata a finire, e facciamo in modo di essere intelligenti e non cedere all'odio. Cerimonia funebre anche per Elsa Kayat, l'unica donna del gruppo di vittime, e per il poliziotto Frank Brinsolaro, assegnato di scorta al direttore del settimanale, Charb, e con lui ucciso.